Onorevole Stefano, all'Asia, qual è la posizione della Lega sull'Ecobonus? La posizione della Lega è assolutamente favorevole agli incentivi che lo Stato darà e darà la possibilità ulteriore di aumentare dal 55 al 65% le declazioni fiscali sulle rispluttazioni degli immobili e l'acquisto dei nuovi immobili di casa. Perciò è un parere assolutamente favorevole per dare una boccata d'ossigeno all'edilizia, all'incomparto manufatturiero italiano che è un'eccellenza del mondo. In particolare la Lega Nord, quale incentivi ha portato a questo decreto? Gli incentivi sono stati quelli migliorativi al testo dando certezze tempistiche, cosa che nel decreto magre che è uscita dal decreto del governo non c'era nessuna data. Noi abbiamo voluto puntualizzare non tanto chi fa cosa ma soprattutto in questo caso che era già scritto quando sarà fatto.